Benvenuti! Questo è il podcast di 365 Giorni a Roma. Sono Sara Pietrantoni e puntata dopo puntata voglio raccontarvi le storie della mia città. Artisti, imperatori, regine, pape, piazze, strade, misteri e pettegolezzi della storia di Roma. C'era il movente, c'era l'occasione e c'erano anche i precedenti e forse perfino i testimoni. Nerone è indicato da subito come unico colpevole dell'incendio che nel 64 distrugge la città, ma forse lui non c'entra niente. È la notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C. Dalle parti del Circo Massimo, in una delle tante botteghe che sono nate proprio ridosso del circo, qualcuno è forse andato via senza prima controllare che fosse tutto a posto e chissà, forse da un mucchietto di immondizia o forse tra le cose accatastate alla infusa, si sviluppa un piccolo incendio, niente di preoccupante all'inizio, anche perché non c'era nessuno lì da quelle parti che potesse preoccuparsi. Però quella notte c'è vento e allora il vento, unito al fatto che lì non c'è nessuno, unito al fatto che gran parte delle botteghe del Circo Massimo sono fatte in legno, così come la parte più alta delle gratinate del circo stesso, fanno sì che in breve tempo il fuoco divampi e il vento porta le fiamme rapidamente sul palatine o ancora più rapidamente dall'altra parte. Il fuoco mangia tutto quello che incontra e sappiamo che a quel tempo c'era molto che poteva mangiarsi. Sì, perché nonostante Augusto si fosse vantato in lungo e in largo di aver lasciato ai posteri una città di marmo, nella realtà la Roma imperiale è ancora in gran parte costruita in legno. Tolti ovviamente i grandi edifici, i complessi monumentali e i templi, il popolino vive infatti in case che sono fatte ancora quasi completamente di legno, anzi peggio, vivono in condomini a più piani le insule che sono fatte quasi completamente di legno. Così quando chi vive nei piani più alti si accorge che la base della sua casa sta bruciando, ormai è troppo tardi per salvarsi. Per questo lo stesso Augusto istituisce il corpo dei vigili del fuoco, assegnando a ogni corte il controllo di due regioni. E visto che la prudenza non è mai troppa e il pericolo del fuoco è sempre in agguato, è lo stesso Augusto che fa costruire un poderoso muro tagliafuoco tra il suo foro col Tempio di Marte, quello che ancora oggi si vede da via dei fori imperiali, e la suburra, l'area più popolare della città e ovviamente quella in cui i edifici in legno abbondavano. Se fosse bruciata la suburra, cosa che ogni tanto capitava, almeno il foro si sarebbe salvato. Insomma, lo diceva pure Cicerone, il pericolo degli incendi era da sempre ben presente a tutti a Roma, tanto che uno degli eventi che spaventava davvero tutti, aveva segnato tutti in città, anche se ormai all'epoca di Nerone la gente ne aveva sentito parlare solo dai nonni e dai nonni e dai nonni, era stato il grande incendio che aveva seguito il sacco dei Galli di Brenno, quello che aveva quasi del tutto distrutto la città. Guarda caso, era il 18 luglio del 390 avanti Cristo. Per un popolo che guardava le date con una certa superstizione non poteva essere una coincidenza. E torniamo allora a quella notte del 18 luglio del 64, col fuoco che già stava divampando tra il Palatino, la Valle del Foro e la Subburra. Ecco come Tacito, che pure non è testi monoculare e scrive qualche decennio dopo i fatti, racconta quello che succede. Ebbenizio, in quella parte del circo vicino al Palatino e al Celio, qui attraverso le botteghe che contenevano merci combustibili, il fuoco appena acceso e subito rafforzato e sospinto dal vento si propagò rapidamente per tutta la lunghezza del circo. Non erano infatti né case con recinti di protezione né templi circondati da muri né alcun altro impedimento. Si diffuse impetuoso nelle zone pianeggianti, salì nelle parti alte e poi tornò a scendere in basso distruggendo ogni cosa, precedendo i rimedi con la velocità del flagello. Insomma, a sentire le parole di Tacito non c'è modo di fermare il fuoco che come impazzito va da tutte le parti. E Nerone? Ecco, il principale indiziato, quello che alcuni cominceranno a indicare come unico responsabile di quell'incendio, prima ancora che l'incendio stesso fosse domato, da lì a una decina di giorni addirittura, in quel momento non è nemmeno a Roma ma si trova nella sua villa di Anzio. Non che questo basta scargionarlo, per carità, in fondo l'imperatore avrebbe potuto fare una telefonata e ordinarvi a piccare l'incendio come si ordina una pizza margherita. E qualcuno in città malignamente nota anche che Nerone tarda parecchio ad arrivare e che sembra farlo solo quando capisce che le fiamme stanno per rambire la sua stessa residenza. In sostanza, l'idea che piano piano qualcuno sussurra è che a Nerone non gli importi proprio niente, che la città bruci, che i romani muoiono o restino nella maggior parte delle ipotesi senza casa o senza un posto dove andare. Ma sarà davvero andata così? È curioso notare infatti che lo stesso Tacito, che prima insinua il dubbio che sia stato proprio Nerone ad aver appiccato l'incendio, ha a descrivere un imperatore che poi si prodiga nei soccorsi. Ecco cosa dice. Fece aprire, come rifugio per il popolo terrorizzato, il campo marcio e il sepolcro di Agrippa e persino i suoi giardini privati e fece costruire abitazioni provvisorie per accogliervi la folla senza mezzi e furono fatti venire generi di prima necessità da Ostia e dai municipi vicini. E il prezzo del frumento fu diminuito fino a tre nummi al moggio. Insomma, Nerone organizza i soccorsi, fa aprire edifici imperiali del campo marcio per accogliere gli sfollati, apre addirittura i suoi stessi giardini e fa costruire alloggi provvisori, fa arrivare derrate elementari dalle parti non colpite dall'incendio e diminuisce pure il prezzo del frumento per aiutare chi era rimasto senza niente. Tutti interventi che, in effetti, sembrano contrastare con l'idea di un pazzo incendiaro che disturbi della città per il suo cortoconto e per fare semplicemente spazio ai confini della sua nuova fastosa residenza. Ma quando c'era di mezzo Nerone valeva tutto il suo contrario. Il popolo in realtà tendenzialmente lo ama, i senatori invece hanno quasi paura e, almeno in un'occasione di questo ne siamo certi, qualcuno aveva congiurato per farlo fuori. Non sorprende allora che il solito Tacito, che a questo punto dobbiamo immaginare qualche preconcetto su Nerone dovesse avercelo, insinua il dubbio che non solo l'imperatore avesse ordinato l'incendio ma che ne abbia tratto addirittura esperizione per le sue poesie, per le sue rime. Eccolo di nuovo Tacito. Si era sparsa la voce che, nello stesso tempo in cui la città bruciava, Nerone avesse calcato il palcoscenico del palazzo e in veste da Edo avesse cantato l'eccidio troiano tentando di far somigliare le sventure presenti agli antichi disastri. Si era sparsa la voce, dice Tacito, la calunnia è un denticello, diceva qualcun altro. Ecco, non un'accusa diretta, anche perché lo dicevamo all'epoca dell'incendio, Tacito aveva neanche una decina d'anni, ma un'allusione che però resiste da duemila d'anni, un dubbio che si è radicato in noi. Una fake news in realtà, diremmo oggi, però ecco, certe cose non cambiano mai. Quel che è vero è che dopo l'incendio, Nerone cominciò i lavori della sua grandiosa damusauria. D'altra parte, è vero anche che l'imperatore troverò a imporre un nuovo piano regolatore, secondo il quale gli edifici vicini non potevano avere i muri in comune, ma doveva esserci a una distanza tale da impedire ad un eventuale nuovo incendio di propagarsi con quella stessa velocità che tutti avevano sperimentato. sperimentato. Venne anche limitata all'altezza dei caseggiati. È però difficile vedere se queste prescrizioni, passata la grande paura, vennero davvero seguite per i decenni a venire. Probabilmente no, visto che gli incendi ce ne furono anche a seguire, ma, ve l'ho detto, certe cose non cambiano mai, purtroppo. E allora, concludendo, Nerone è colpevole o innocente? Ecco, nel caso specifico, gli storici oggi tendono a scagionarlo. Il momento isera, ma in fondo, essendo imperatore, avrebbe potuto più facilmente confiscare quei terreni e quegli edifici che lo interessavano, senza la necessità di bruciare tutto in maniera poi incontrollata. Anche perché le spese per i soccorsi e la ricostruzione furono altissime, non c'era stato, insomma, nemmeno un ritorno a livello economico per Nerone. E che l'imperatore abbia davvero imbracciato la lira e cantato alla distruzione della città quando questa era ancora in fiamme, è davvero difficile da credere per quanto folle Nerone abbia dimostrato di essere in tante altre occasioni. E se la sentenza, come si dice, davvero appannaggio dei posteri, noi che adesso siamo i posteri di Nerone, ci sentiamo davvero di condannarlo oppure di assorderlo?